I furti sono aumentati, è evidente, circa 400 in più, quindi con una media di 1-1,5 giornalieri. Questo si è verificato perché evidentemente la situazione è un po', come posso dire, c'è una sorta di crisi e questa crisi in qualche modo si riflette anche sotto il profilo dell'indice della dottoresità. Noi altri cerchiamo sempre di rimodulare il nostro sistema di vigilanza e controllo del territorio organizzando dei servizi straordinari e ultimamente proprio avendo riscontrato questo aumento dei furti lo stiamo facendo in maniera, come posso dire, più analitica, individuando le zone più a rischio e gli orari anche in cui i furti avvengono proprio per porre un freno a questa tipologia di reato che per certi aspetti è odioso perché un furto in un'abitazione viola quella che è l'intimità familiare e per cui cerchiamo sempre di essere, come posso dire, più attenti, più vigili proprio per tutelare meglio la collettività. Ci sono altri reati anche che stanno un po' aumentando, ad esempio le truffe, in particolare le truffe telematiche. Sì, le truffe telematiche perché ormai la vita di relazione si svolge anche in rete e quindi c'è una serie infinite di strade che la polizia postale vigila. Evidentemente la serie è talmente infinite di rete, come voi potete immaginare, che qualche cosa sfugge ma la polizia postale si attrezza sempre più proprio per prevenire questo tipo di truffe informatiche. Faremo più di quanto possiamo fare, ha detto prima, c'è anche tutto un organico ovviamente da ricostruire, anche da questo punto di vista. Più che di ricostruire, la persona della polizia di stadio si è sempre distinto per questo spirito di servizio, per questa attenzione alla laboriosità. Questa virtù del poliziotto comporta un'attività che possa rendere più di quanto uno possiede, più di quanto uno abbia e con questo spirito noi affronteremo il 2014, questa sarà la sfida e quindi cerchiamo sempre di dare maggiore sicurezza e più alla comunità e rasserenarla. Sì, a breve sicuramente il Ministero è già al corrente della situazione organica che noi attraversiamo e quindi non mancherà di disporre un adeguato rinforzo.